Siamo sempre noi, siamo sempre qui. Allora, questa è la cartellina, ora facciamo vedere un po' di cose a Roberta. Roberta a gennaio farà parte delle ragazze Vegas del nostro gruppo. È bravissima, è quasi una potenza nella vendita, nella vendita diretta. Robi, saluta. Comunque, niente. Allora, il catalogo, come al solito, lo tiene ancora Enzo in mano. Però facciamo vedere. Allora, io ho portato un regalino a Roberta. Allora, guardate com'è bella questa pochettina che sto seguendo. Il consiglio di Fabiana è di portare sempre dei prodotti con noi. Oh sì, Roberta. Robi, aprila tu questa. Sì. No, 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 non ti inquadro. Allora, Roberta sta prendo... Allora, queste sono le nostre cialde. Vedete come sono belle? Ok, perfetto. No, queste non c'entra. Possiamo pure questo, il pennellino. Ok. Allora, qua teniamo... Guardate come sono grandi le cialde nostre. Vero, Robi? Hai mai visto che sono grandi? No. Infatti, sono più grandi le cialde. Eh, infatti, Roberta mi ha portato una piccola trousse. Non dico il nome della marca, ma le sono piccoline così. Infatti, di solito, queste sono la grandezza del blush. Questo qui, ragazze, è numero 11 e si può usare sia come ombretto che come blush. Eh, sì, perché il colore è più chiaro. Eh, il colore è più chiaro. No, ma, Robi, i nostri prodotti sono quasi tutti che si possono usare sia per gli occhi che per le labbra. Questo qui è il numero 12. È troppo bello questo Lilla. Quest'altro è il numero 16. Allora, ora, Roberta, io gli regalo questo qui. Robi, aprilo tu perché ne tengo... Se no, no, è il correttore per le imperfezioni. Guardate com'è bello. Vedete, è verde. Allora, Robi, i packaging cambieranno. Non saranno più argentati, ma saranno neri. Sono neri. Quindi questo qui... Questo qui è di Robi. Tieni, Robi, questo prendetelo tu. Questi qui invece sono i rossetti. Sono simili con... Sì, il packaging è uguale, però... Questi sono tutti i rossetti che tu hai visto, Robi. Vedete, tutti i colori. Questo è il numero 32. Non è così scuro. No, 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 no. Non è così scuro. Dammi là, ma. È tipo... La mia sorella è la pelle chiara. Eh, la pelle chiara. Eh, a me mi piacciono i colori scuri, per esempio, a me. Ok. Ma come devo lavare il... Eh, dopo c'è... Eh. Allora, metti tutto questo, Robi, dentro. E quindi... Il nostro gruppo. Eh, il nostro gruppo. Insieme a Fabiana. Insieme a Fabiana. Eh, niente. Quindi faremo delle grandissime cose. Poi, vedete, noi possiamo lavorare in tutti i posti. Cioè, la cosa bella, stamattina, ci siamo andate a fare un bel giro. Siamo andate a vedere le scarpe. Siamo andate a vedere... Eh, da Tiger. Quindi... E poi siamo venuti qua. E niente, ragazze, vi salutiamo. E... Al prossimo... Ci aggiorniamo più tardi. Ciao a tutti.